Domenico Caltagirone Sembra una telenovela, mamma sapeva perfettamente che io ero suo figlio, perché custodiva nella cassa corte che ha preso fuoco l'esame del PNA e altri documenti che certificavano la mia nascita L'uomo ha raccontato di aver incontrato la madre 37 anni fa.Mila è un volto nuovo per i telespettatori di Domenico Live, perché in passato era stato ripreso a Fanto a Isabella Viaggini durante un collegamento televisivo in diretta Ma era stato presentato come Stefano, in un copo di Isabella Viaggini. Poi la confessione sciocca, a mia mamma fece il credere di avermi evitato alla madre Cosa non vera, mia madre era già sposata, mio padre anche per non creare uno scandalo è stato superfettificato La storia ha lasciato a buca aperta barbara verso tutto lo studio di Domenico Live Ciao Ciao